Mario Cogno, Sindaco di Taggia, oggi siamo qui per presentare un nuovo monumento creato per sancire quello che è il gemellaggio fra il nostro comune e Verbicano, un gemellaggio che ormai dura da diversi anni. Assolutamente sì, perché nasceva con l'emergenza precedente alla mia, oggi è un momento importante perché vogliamo suggerire intanto un rapporto fra comunità, ma soprattutto dare un grande ringraziamento a chi è stato il promotore di questa iniziativa, perché il Sindaco Francesco Silvestri, che è qua con me, Sindaco di Verbicaro, che a fine mandato è stato davvero la persona che ha avuto in animo di creare e di sancire ancora di più questo patto di gemellaggio. Voi dovete sapere che le nostre comunità sono fattivamente legate da decenni, perché comunque Taggia ha conosciuto negli anni 50 un fortissimo fenomeno di migratorio da Verbicaro verso la nostra comunità. Oggi è un percorso che si è chiuso perché c'è un'integrazione totale fra le due comunità, non si distingue più, ed era giusto quindi dare un ringraziamento, un ringraziamento formale, l'abbiamo deciso di fare andando a collocare due monumenti nei rispettivi territori, appunto che ricordino, chi li vedrà, che comunque c'è un legame di sangue, c'è un legame affettivo fra queste due comunità che c'è stato, c'è e ci sarà anche in futuro. Un rapporto che tra l'altro si viene anche a creare, diciamo a livello anche personale, fra lei e l'attuale Sindaco. Assolutamente sì, perché noi ci siamo conosciuti anni fa con idee anche un po' diverse per quello che era il discorso politico e quant'altro, poi quando ci si guarda negli occhi ci si rende conto che sono più le cose che uniscono che quelle che dividono, quindi è nata un'amicizia sincera, vera, salda e oggi è un punto diciamo non di fermo, oggi tiriamo appunto una valutazione di quello che è stato, ma soprattutto dobbiamo mettere le basi per quello che sarà e Francesco sono convinto che saprà dare nuovi spunti, nuovi stimoli a livello culturale per la propria comunità.